Il centenario della nascita del Papa Santo, Giovanni Paolo II, sarà il tema centrale del programma del Giardino Letterario, giunto alla settima edizione, iniziativa culturale che si rinnova ogni anno a San Pietro della Lienca, quel luogo così amato dal Papa, dove c'è il santuario a lui dedicato, allo scopo di valorizzare il comprensorio con le sue caratteristiche storiche, architettoniche, naturalistiche e religiose. L'organizzazione è curata dall'Associazione Culturale San Pietro della Lienca, con il sostegno del Comune dell'Aquila e della Fondazione Carispac. Si inizia domenica 28 giugno. Domenica c'è il generale Riccardi, che è dei beni culturali, della sezione dei carabinieri beni culturali, che presenta anche un libro. Poi ci seguiranno tanti altri appuntamenti. L'11 di luglio avremo anche un politico, io dico buono, specialmente per l'Aquila, e del Letta, Gianni Letta. E poi avremo tantissimi altri appuntamenti. Gli appuntamenti si concluderanno il 30 agosto. Sarà assegnato un premio ad un giornalista che ha dedicato uno scritto importante al Papa, Giustino Parisse, e ci saranno moltissimi altri ospiti, autori, studiosi, disegnatori e altri personaggi. Il 2 agosto sarà assegnata la stela della Lienca, premio internazionale alla Casa Museo di Coracovia. Quest'anno la stela viene data alla Casa Museo Giovanni Paolo II di Vadovice. Spero che avremo anche l'Arcivescovo di Gradovia, il direttore del museo e il sindaco di Vadovice. Ed è un grande momento perché quest'anno sono i 100 anni di Giovanni Paolo II. E su questa storia dei 100 anni, io direi che è una vittoria dell'Aquila avere il primo sanduario al mondo di Giovanni Paolo II.